Quanto c'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi A Risolto Giallo! Buonasera da Risolto Giallo e dalla vostra Alessia Sorgato Buonasera anche dal vostro Niccolò Mazzavillani E oggi è una puntata incredibile Perché per la prima volta A Risolto Giallo Torna uno scrittore, anzi una scrittrice Il che ci riempie di gioia per la sua produttività e per la nostra costanza Riecco a voi Marina Visentin Grazie dell'invito, felice di essere qui Allora Marina è qui con noi in una giornata che definire torrida è poco Quindi viene subito omaggiata del gadget di Risolto Giallo Wow! Che è utilissimo e che può essere utilizzato anche durante la puntata Ok, lo facciamo vedere subito Assolutamente, sì Meraviglia! In favore di telecamera Ecco il gadget di Risolto Giallo Meraviglia! Quest'anno ragazzi dovevamo assolutamente inventarci qualche cosa Perché io non ce l'ho ancora? Dobbiamo assolutamente rimediare e lo faremo Però a te lo facciamo rosa Rosa così? Rosa porcellino Rosa Barbie Questo è Rosa Barbie Assolutamente Rosa Barbie Mi spieghi Allora, voi ricorderete che la Visentin è già stata qui È stata qui con un romanzo avente lo stesso protagonista La nostra Giulia Ferro Che io mi ricordo tra l'altro molto bene Il titolo che era Cuore di rabbia Poi vabbè, tralasciandola Il motivo per cui te lo ricordi Il motivo per cui me lo ricordo lo possiamo tranquillamente tralasciare Prego, vai pure avanti Facciamo vedere la copertina del nuovo Eccoci qua Questo si intitola Gli occhi della notte È uscito da poco Eh sì, è uscito alla fine di aprile Alla fine di aprile E abbiamo la stessa squadra a lavorare su un caso diverso Prima di cominciare a parlare di questo romanzo e di tutte le sue caratteristiche Una in particolare già appare nella quarta di copertina Evidentemente qualcun altro prima di me ha colto questa caratteristica Che secondo me è uno dei suoi punti di forza Mazzavillani, vuoi per caso chiedere a Marina qualcosa di preliminare Per chi eventualmente avesse perso la puntata dell'anno scorso? Beh, sicuramente il presentarsi Chi è Marina Visentina? Aiuto 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 Anche l'anno scorso era stato così Sì, io ho detesto Io scrivo romanzi usando un alter ego che si chiama Giulia Ferro Proprio perché preferisco parlare di lei che parlare di me stessa Quindi allora cambiamo la domanda Ci parli di Giulia Ferro? Va bene Posso parlare di come Giulia Ferro mi somiglia Così nel frattempo parlo anche di me Mi viene molto meglio Allora, Giulia Ferro possiede una laurea in filosofia Esattamente come me Cielo Cielo Poi gli ho regalato anche una laurea in giurisprudenza Che io non ho Manca Perché mi hanno detto che se no non poteva fare carriera in polizia E quindi allora ho detto va bene Io non la potrei mai prendere Ma lei sì E quindi lei due lauree Poi lei viene dal Novarese Dalla zona fra Novare e Lago Maggiore Esattamente come me Ed è esattamente come me Una persona molto ostinata E con un grande senso di giustizia Poi lei fa la poliziotta Io non ho mai pensato in vita mia di fare la poliziotta Però sono sempre stata una grande divoratrice di romanzi Di tutti i generi Gialli in modo particolare Ma non sempre e non solo E poi è una vita che io mi occupo di cinema Cioè il mio lavoro per tantissimi anni è stato quella di critica cinematografica E quindi nei miei romanzi c'è molto anche quello sguardo lì Cioè lo sguardo appunto del cinema Però con un dettaglio che Visto che sì Lei è il mio alter ego Però non poteva diventare la mia gemella Perché se no era troppo Diventava imbarazzante E allora le ho prestato una vera e propria idiosincrasia Nei confronti del cinema Cioè lei è una grande lettrice Ma al cinema non ci va da decenni Però ha un'amica cinefila Che le rompe in continuazione le scatole Dicendo ma dovresti vedere questo film Dovresti vedere quest'altro Guarda che senza il cinema Non capisci nulla del mondo Ecco per cui mi sono creata un po' questa cosa Per chi conosce un pochino Marina di persona Come la fortunatissima che vi parla Differenze ce ne sono delle altre E tutti a favore della Visentina Tutto sommato Perché la nostra Giulia Non ha proprio un carattere malleabilissimo Ma neanche io Allora noi mostri la parola A te migliore Povero Zucca Sembro malleabile Zucca si becca la parte Giulia Ferro O in noi Però lei è molto ruvida È piena di spigoli sta ragazza Un po' Un po' una damigella spagnola Ti ricordi lo strumento di tortura Di quella con tutti gli spuntoni Che non voleva essere abbracciata Infatti ancora single Secondo romanzo Questa ancora non sapia nessuno Ma sono passati pochi mesi Ma non c'è neanche l'accenno Mazzavidani Noi quanti ne vediamo qua Che buttano lì semini Di storielline E tu magari vai avanti sette anni Sette libri A sperare che ci sia finalmente Erbacetto E non c'è mai Questa manco semina I minuzzolini Niente Ma evidentemente non ne ha bisogno La Giulia Ferro Eh Ne ha bisogno? No Visto? No No Vabbè Allora Posso dare un bricelo di risposta seria su questo Nel senso Un po' è stata una scelta appunto Che non ha nulla a che fare con l'autobiografia Perché io sono una romanticona E quindi Giulia Ferro non è per niente una romanticona Ma io ho scelto apposta Di darle questo carattere Un po' ruvido Un po' scostante E anche per certi aspetti Anche Esatto Anche un po' maschile Perché era un po' stufa Di un certo modo Di intendere i personaggi Soprattutto nel giallo Per cui se l'investigatore è un uomo Allora può essere ruvido Antipatico Stronzissimo Non lavarsi E va bene tutto Da una donna si pretende comunque Che sia un pochino più amabile E che da qualche parte ci sia comunque Un elemento di romanticismo Di commedia romantica Ecco io mi sono detta Che questa cosa non era necessaria E che probabilmente era ora Di avere una versione Semminile Completa Di una persona Che davvero È solitaria È solitaria per scelta E anche solitaria Un po' perché le cose Nella vita capitano Ma solitaria Non vuol dire Alieni Dal mondo Perché lei Comunque È ipersensibile È empatica Lei nel mondo ci sta Lei con le persone Che ha davanti Le capisce Molto di più Di altri Che fanno tanto I simpaticoni E parlano troppo E non ascoltano Lei è una che ascolta Per cui ecco Insomma Un po' mi sono divertita Nel gioco Del Le presto Alcune cose mie Altre gliele tolgo Eccetera Un po' volevo Ecco creare Un personaggio femminile Che fosse All'altezza Di una certa immagine Del femminile Che Viva Dio Finalmente Sta cambiando E fino a pochi anni fa Però sembrava Impossibile Perché Un certo tipo di personaggio Declinato al maschile Aveva Poteva avere Certe caratteristiche Se era declinato al femminile Automaticamente No Deve avere i tacchi a spillo Ecco lei I tacchi a spillo Non se li mette E qui abbiamo trasmesso Visentin Versus Cosicrime Tacchi 12 E tutto ciò Che potete Immaginare Che vanno bellissimo Ma è solo un altro scaffale Sono un'altra cosa Esatto Sono un'altra cosa L'importante è non pensare Che ci sia un'unica possibilità Ecco Questo secondo me Ad ogni modo Io direi Che se dovessimo aggettivare La Giulia Ferro La Alla milanese La Giulia Ferro Con tre attributi Diciamone uno per uno A me viene Subito Spiccia Nicca A te che cosa Ti viene Facciamo chiudere a Marina Beh l'hai detto Anche te Dura 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 Ma allora Visto che avete già Detto voi due Io aggiungo Vulnerabile Perché lei in realtà Si è messa una corazza Perché è fragile Perché Ha paura Di confrontarsi Con i sentimenti Con la parte più molle Che ha dentro E quindi Prova poveranza Stavolta Perché questa indagine Questa degli occhi Della notte È Se mi permettete Ma non è nulla Di anticipatorio È una delle storie Più Terribili Non perché ci sia Dello splatter Non perché sia Raccapricciante Non perché abbia Dei tratti horror O wired Come abbiamo imparato Recentemente Ma perché Tutta l'investigazione Verte attorno Ad uno dei delitti Più efferati Che la nostra società Conosca Ovvero sia Il delitto Di una bambina Questo appunto Non è uno spoiler Perché proprio Nell'inizio Nell'incipit Nel primo capitolo C'è il ritrovamento Del cadavere Di questa bambina Scomparsa Un paio di giorni Prima E ritrovata In un boschetto Del parco nord Non c'è Nessun dettaglio Macabro Perché Perché a me Come lettrice E come scrittrice Interessano poco I dettagli Macabri Io penso Da lettrice Prima ancora Che da scrittrice Che siano Molto più Interessanti Molto più interessante Quello che sta Intorno Al cadavere E intorno Intendo Non solo E non tanto La scena del crimine Quanto La famiglia Che sta intorno A questa bambina La piccolo Mondo Che sta intorno A lei Possiamo dirne qualcosa Perché io lo trovo Un tratto caratteristico Del romanzo E della trama Interessante Si può Anticipare qualcosa Della famiglia Della bimba Sì Beh Da una parte È una famiglia Assolutamente consueta Ormai Nella nostra società Nel senso Che è una famiglia Che vi arriva Da una serie Di scomposizioni E ricomposizioni Per cui c'è Al centro Un padre E un marito Che ha avuto Un'altra moglie In realtà Una serie Di donne E delle figlie Tre figlie In particolare Da tre donne Differenti E questa Lui è un po' Al centro Di questo nucleo Familiare E tenta Di vendere Alla nostra Investigatrice E comunque A quella Che sta La squadra Che sta indagando Questa immagine Di una famiglia Perfetta Dove Il male È entrato Come dire Chissà come Chissà come In realtà Inevitabilmente Vorrei dire Questa famiglia È tutt'altro Che perfetta Questo non vuol dire Quindi che lui Debba essere Per forza Il colpevole Ma vuol dire Che spessissimo E questa è una cosa Che fa Una considerazione Che faccio fare A Giulia Ferro A un certo punto Spessissimo Le cose Peggiori In un'indagine Sono le bugie Degli innocenti Perché Sono quelle Che ti mandano Fuori strada E non capisci Neanche bene Perché Perché Stanno colposamente Non lo fanno Neanche a posto Perché Spessissimo Parlare Con qualcuno Che indaga Ti fa sentire Immediatamente In una condizione Di Di sudditanza Di difetto E quindi Ti viene Da metterti Sulla difensiva E quindi Appunto Negare a volte Anche l'evidenza E Per gran parte Del romanzo Parlavo prima Di scena del crimine Ecco In questo romanzo In particolare È la prima volta Che lo faccio Rispetto agli altri Gialli Che ho scritto Gran parte Del problema Per cui L'indagine Diventa Faticosa E gira a vuoto È perché Non si riesce A trovare La scena del crimine Non si capisce Cioè Si sa Da dove La bambina è sparita Si sa Dove È stata ritrovata Ma Né un Né un luogo Né l'altro Sono Il posto Dove lei è morta E quindi Finché Non si riesce A individuare La scena del crimine Non si riesce Neanche A fare Delle ipotesi Sensate Su chi Come Possa aver Preso Questa bambina E poi Averla uccisa E quindi Ecco Ben presto Diventa Tutto un intreccio Appunto Di bugie Alcune Non voglio dire Affin di bene Ma diciamo Innocue Altre È tutt'altro Che innocue Però Il risultato È proprio Una matassa Che diventa Sempre più difficile E che a me Interessava Esplorare Proprio da un Mutualista Psicologico Cioè Proprio Chiedendomi Prima di tutto Che cosa Spinge Una persona A mentire Certo E che la maggior parte Dei comportamenti Decisioni Sia quelle fondamentali Peccato che la giustizia italiana Questa non l'abbia ancora capito Anzi Tutto deve essere ricondotto A logica A me poi fa impazzire Quando magari Guardo un film Una serie tv Thriller Poliziesco E Una delle testimoni Che poi Non è Testimono La testimone Che poi non è Effettivamente L'assassino L'assassina Mente E Spesso Viene Giustificata Questa Questa bugia Come vergogna Cioè Non ho detto Questa cosa Perché mi vergognavo Di dirla Di renderla Nota Eh sì Però Caspita Hai Depistato Le indagini E a me Sta cosa Sempre fatto impazzire E Sono d'accordo con Marina Quando dice che È vero che Gli atteggiamenti A volte In questi casi Sono irrazionali Cioè Non ti sai spiegare Effettivamente Perché L'hai detto Di solito Viene Viene data Nei film del seduto Come vergogno Oppure Non lo so Anche a volte C'è questa Come spiegazione Sì sì però Cioè Nei casi Anche casi clinici Insomma Negli studi Degli psicoterapeuti In realtà Accade Si mente Addirittura Allo proprio Psicoterapeuta Questo c'è Nella letteratura Psicologica Questa è una cosa Assurda Diffusissima Tu paghi Qualcuno Da cui vai Tutte le settimane A raccontargli Un mondo Che vorresti È un mondo Di frottole Ma non è una cosa Successa una volta È questa esperienza Comune Di chiunque Faccia psicoterapia Sì 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 Ecco Immaginate invece Che Ed è interessante Secondo me Ragionare Nella pratica forense C'è anche L'opposto Nel senso che Noi stiamo Sempre più Fronteggiando Il problema Dell'ingaggio Cioè Se al testimone Fai una domanda E questo testimone Ha per tutta Una serie Di caratteristiche Personali Ma anche Per l'aspettativa Di chi Gli sta attorno E lo sta ascoltando Non concepisce Il non lo so Il non me lo ricordo E quindi inventa La regola Dell'ingaggio Del testimone Può essere Addirittura questa Cioè L'opposto Non tace Per vergogna Ma dice la qualsiasi La prima cosa Che gli viene in mente Perché il nostro È diventato Un mondo veloce Cioè Domanda risposta E la botta E la risposta Classica Della vita Di tutti i giorni Oggi è amplificata Probabilmente Temo Anche per colpa Dei social Che hanno questo impatto Ma ti senti Indifetto Molto rapido Se non sei in grado Di rispondere a tono Infatti Io le mie assistite Lo dico Probabilmente È questo il meccanismo Prima di entrare in aula Te lo dico sempre Perché basta poi un niente Per poter anche Essere considerato Un sospettato Cioè Tu dove eri Ieri Non mi ricordo Cioè Io penso Anche in aula Anche quando ormai Ma il sospettato È un altro Anzi Non è neanche più Un sospettato È proprio un imputato È un altro Magari anche l'ingabbia E tu sei lì a fare il testimone Ma il non lo so Il non me lo ricordo In panica Per primo Chi è Richiesto Di dare Una risposta Fine Dovete pagare Per questo pezzettino Per la consulenza Per la consulenza legale Filosofico Psicologico Forense Non va bene Tornando a noi E alle punte di diamante Di questo romanzo Di recensioni Su questo nuovo libro Di Marina Visentin Ne troverete sicuramente tante Ne troverete a firma Di tanti Poi tante ospitate Marina è una ragazza Molto generosa Che non si nega Ma poi non si nega La invitano va La invitano va La invitano va Ovunque Però Posso Vai 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 C'è una cosa Che addirittura Le hanno scritto Un quarto di copertina E gliel'ha scritto Il fatto quotidiano E io voglio leggervelo Perché Non lo avevo ancora notato Ma me l'ero appuntato Leggendo il libro Poi l'ho visto E ho detto Vedi Siamo almeno in due Marina Visentin Ci regala Uno stile pulito Dialoghi Realistici Dialoghi Realistici Ragazzi Lei Non vi fa Parlare I personaggi Per darvi Gli spiegoni No Lei non parte Da A E vi porta A Z Tramite loro Lei magari parte Da M E facendoli Parlare Vi riporta Da A Vi conduce Fino a Z Questo è Unico Lo fai Solo Tu Un po' La Quentin Tarantino Che partiva da un punto E poi circolarizzava E ritornava su quel punto Ma guarda che è veramente una caratteristica straordinaria di scrittura Brava Sono felice che tu l'abbia notato Non credo di farlo solo io Grazie Comunque Ma è una cosa a cui tengo molto Una cosa su cui lavoro tanto Perché Perché anche lì Cioè Quando leggo E io leggo tanto Comunque Sono particolarmente infastidita Dagli spiegoni Dentro i dialoghi Perché Perché no Insomma Sono proprio brutti Di solito Anche quando ti servono Io in più ho Il fatto che ho Una protagonista Che parla in prima persona Perché tutto il libro È in prima persona Quindi non ho le scamotage Della terza persona singolare Per cui io posso cambiare punto di vista Posso fare intervenire Lo sguardo di qualcun altro I ricordi di qualcun altro No È lei che guarda È lei che ascolta È lei che Pensa O che ripensa O che rimugina Anche sulle cose Che scopre O che le hanno raccontato E Nell'uso della prima persona Io ho da una parte Bisogno di dialoghi Anche In modo massiccio Perché ovviamente Se no diventerebbe Solo un monologo interiore Avrei lei Che sta Se ne sta da sola Rimugine Si risolve il caso da sola Senza neanche interagire Con nessuno Invece no Perché ha una squadra Ha dei superiori Ha tutta una serie di persone Con cui Deve interagire Se vuole andare avanti E quindi interagisce come Ovviamente attraverso i dialoghi E nei dialoghi Deve anche venire fuori Quello che a me interessa raccontare Per far muovere la trama Poi te la lascio Però Comunque hai Però i dialoghi devono Io pretendo Da me stessa Che questi dialoghi siano vivi C'è una bella evoluzione Rispetto al romanzo precedente E si vede proprio dai dialoghi Nel rapporto con il suo vice Con il bel Alfio Perché Giulia qui parla con tantissime persone Anche suoi superiori Anche persone alle quali Deve rendere conto Gente che Normalmente più incompetente di lei Ma che in qualche modo La manovra Ma è proprio dai dialoghi Con Alfio Che escono Di fatto poi Trigger Perché l'indagine Proceda Quindi Questo loro rapporto Che forse Era embrionale Nell'altro romanzo Anche perché lui è troppo bello Lei non diffida degli uomini belli Lui fa troppe battute Lei non ha il senso dell'umorismo Qui li hai affiatati Ancora di più E stanno facendo Una coppia Investigativa Ma anche di amici Forse stanno diventando addirittura amici Forse Sono amici Sono amici No lo specifico Perché Perché qualcuno Mi ha scritto Anche sui social Dicendomi Ma ma insomma Però Sti due Nella terza avventura Succede qualcosa Dico No non credo Francamente Non penso Piuttosto Le diamo Un altro Un altro Personaggio No però Mi fa piacere Che tu abbia notato Questa cosa Perché Perché il primo libro Era molto Molto concentrato Su di lei E Certo Il personaggio Di Alfio Russo Era l'unico Con cui lei Comunque Un po' Si lasciava andare Un po' Si confidava Un po' Si rilassava Anche rispetto Il suo ruolo In questo Secondo romanzo Gli ho regalato Anche qualche Passaggio Un po' Quasi da commedia Proprio Di Dialogo Anche Semplicemente Di Colore Passatemi Questo termine Ci sono anche Dei dialoghi Che in realtà Non mandano Direttamente Avanti la storia Però Mandano avanti I personaggi E loro rapporti E quindi A me piace molto Questa cosa qua Tutta tua Per gli ultimi Minuti Allora Si parla Di Milano E qua Viene descritta Come una Milano Inquietante E perfettamente Descritta Quindi C'è Un terribile Omicidio In una Milano Che comunque Mi sembra di capire Una Milano Che è tutt'altro Che serena Anzi Una Milano Un po' Oscura Ha cambiato Quartiere Ha cambiato Quartiere Rispetto all'altro Ha cambiato Quartiere Sì assolutamente Questa volta Dove Beh allora Giulia Ferro Abita sempre In zona Porta Genova E quindi Quel pezzo Di Milano Lì c'è sempre La questura Sta sempre Lì a Fatebene Fratelli Quindi quello è Quello è Quindi Quei due pezzi Di Milano Lei è una Che cammina molto E questa è un'altra Cosa che le ho prestato Io sono una Che si attraversa Mezza città Magari non In questi giorni Con 42 gradi All'ombra Ma di solito Se il clima È minimamente Favorevole Io sono una Che cammina parecchio E mi piace appunto Andare a scoprire Gli angoli Di Milano Proprio camminando Il Parco Nord Che è il luogo Dove viene ritrovato E da cui si sviluppa Insomma Parte l'indagine Il Tutta la parte In cui Giulia Ferro Gira su e giù Per il Parco Nord Per il quartiere di Affori Che è quello Dove abitava La bambina Da cui lei è scomparsa Eccetera eccetera Lei cammina su e giù Ma io Per prima Sono andata Ma più volte Compreso C'è una scena All'alba E io sono andata All'alba In inverno A vedere Cosa si vedeva Al Parco Nord Se almeno gli alberi Li vedevi O se ci andavi O sbattere Il cosiddetto Sopralluogo Di polizia Giudiziaria Sopralluoghi seri Sopralluoghi seri Quindi quando la Visentin Esce per fare due passi Non è più solamente Per camminare Ma anche per scoprire Angoli Assolutamente Occhio se la incontri Esatto Probabilmente Sta lavorando Ed è Secondo me È una delle cose È una delle spinte Che ho avuto Fin dall'inizio Quando ho cominciato A scrivere romanzi Romanzi gialli Che non sono Di solito Ambientati esclusivamente A Milano Perché poi ci sono Anche delle ambientazioni Diverse A volte Però il nucleo È un po' sempre Milanese E mi piace L'idea di descrivere Le varie parti Di Milano Perché Milano È il centro Milano La periferia Anche un po' Quelle che non sono Tanto Che possono essere Magari non conosciute Dalla maggior parte Assolutamente Cioè Comunque Quelle è un po' Fuori dagli stereotipi Nel senso Che Affori Per esempio È un quartiere Innegabilmente Di periferia È lontano Dal centro Ma è L'esatto contrario Di una periferia Degradata O povera O problematica È una periferia Borghese Tranquillissima Ha poi Questa struttura Perché Affori Come altri Quartieri Periferici di Milano Erano originariamente Dei paesini Dei comuni Autonomi Che sono stati Inglobati in Milano E che hanno mantenuto Però il loro centro E quindi non sono mai stati Neanche per Un attimo Dei quartieri Dormitorio Costruiti Solo per Come dire Alloggiare le persone Che però poi Dovevano andare A vivere A lavorare D'un'altra parte E ecco Secondo me Per esempio Raccontare Questo tipo di realtà È interessante Più che Semplicemente Fare Ecco Fare un po' Cronaca Di bassa lega Con Con Gli stereotipi Per cui La periferia È questo Il centro È quest'altro Quindi se abiti in centro Hai determinate modalità Se abiti fuori dal centro No Dipende Più che altro Ci sono dei pezzi Di Milano Dove non si riesce A camminare E Questa è una cosa Che ci sarà Nel prossimo libro Nel terzo Che sto già scrivendo C'è proprio Un punto In cui la povera Giulia Ferro È lì Che cammina E quasi La stirano Perché non ci sono I marciapiedi E lei pensa No qui non va bene Perché Se sono in città Ci devono essere I marciapiedi E questo è il contesto Per l'estate Signori Dove sta ambientando Detto questo Io direi Che possiamo salutarci Con questa Chicca Con questo Con questa suggestione Provate Poi magari ci raccontate Come è andata A utilizzare Per esempio Il libro di Marina Che vi facciamo rivedere Come guida turistica Al quartiere Siete di Milano Siete di altrove Va bene Vi prendete questo E vi andate a vedere Il parco Afori Via Pellegrino Rossi Vabbè Ma anche appunto La zona intorno Alla Questura Alla zona di Porta Genova C'erano tanti pezzi Di Milano La Sogata è una Che le fa queste cose Si diverte ogni volta A trovare luoghi Che vengono descritti Dagli scrittori Lei Attraverso qualche dettaglio Come un detective Dice Ma questo è per caso Il ristorante Dicono Caspita Sì è vero È vero In realtà io ho una compagna D'università Che abitava in via Pellegrino Rossi E E puntini in puntini Basta Detto questo Vi abbandoniamo Vi salutiamo Vi diamo appuntamento Alla prossima puntata E al prossimo romanzo Di Marina Visentino Probabilmente Già l'anno prossimo Ah perfetto Perfetto Buona serata Grazie 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 Quanto c'è di giallo Quanto c'è di giallo nella vostra vita E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese Scopritelo con noi Ha risolto giallo Alla prossima puntata Alla prossima puntata Grazie